C'è grande attesa nella parrocchia di Santa Maria in Progno, nella frazione di Santa Maria di Negrar, per l'arrivo dell'icona di Maria Stella dell'Evangelizzazione, patrona di Telepace. Un evento preparato con vari momenti di preghiera, che in questi anni è stato vissuto in alcune parrocchie della nostra diocesi. Prima di tutto ci siamo preparati con tanta preghiera, perché io come parroco e poi tutti quanti, anche i parrocchiani, io li ho invitati proprio a pregare per questo momento, perché sia una settimana ricca di spiritualità mariana, che poi sappiamo che Maria ci conduce sempre a Gesù Cristo. La parrocchia conta 2.200 abitanti e compie 60 anni di vita, ma il santuario ha origini che risalgono al 1.200. Poco distante il Progno, sottile corso d'acqua lasciato per questo tratto nell'incuria. Don Franco, che qui è parroco da un anno, sta cercando di apportare alcune migliorie alla parrocchia, come la nuova cappellina, che conserva alcuni ex voto, testimonianze di affetto e gratitudine dei fedeli verso Maria. Cosa vi aspettate da questa settimana? Allora, quella che è la mia intenzione è che ci si avvicini sempre di più a Maria, proprio perché, come dicevo prima, Maria ci porta a Gesù Cristo. E anche qui, sempre in questa parrocchia, ci sia sempre di più questo riferimento della centralità di Gesù Cristo. Sabato la messa solenne con il Vescovo, poi per tutta la settimana ci saranno speciali momenti di preghiera, che porteranno fino alla festa di anniversario di radio e telepace. Venerdì l'icona sarà portata in processione a piedi fino a Cerna. Allora, il momento iniziale, sabato 19 novembre, arriverà qua il Vescovo di Verona, ci saranno anche le autorità, ci sarà anche la banda di Negrar e accoglieremo l'icona di Maria Stella dell'Evangelizzazione. Faremo questa processione, entreremo in chiesa e li faremo la celebrazione eucaristica solenne, proprio per partire per questa settimana di spiritualità. E poi, per tutti quanti i giorni abbiamo preparato dei momenti di preghiera, al mattino alle 7.40 per i bambini più piccoli, poi alle 8.30 le lodi comunitarie e tutti i giorni l'adorazione eucaristica, sia il mattino che anche nel pomeriggio. Da lunedì, ogni giorno in diretta su Telepace, la messa alle 9 e il rosario alle 16. La sera di lunedì alle 20.45 l'incontro di preghiera dei giovani sempre in diretta.